mister che giornate sono state che cosa ha lasciato la sconfitta di qualche giorno fa a perugia buongiorno giornate sicuramente dove abbiamo analizzato quello che è stato fatto non bene soprattutto nella prima parte della partita che ci ha costretto a subire due gol per ingenuità nostra per per un qualcosa che non avevamo preparato in quel modo e quindi abbiamo analizzato i nostri errori e poi ci siamo concentrati su quella che è la partita di domani contro la prima in classifica che non ha mai perso che ha subito cinque gol e quindi è una è un'altra partita molto molto complicata però che noi dobbiamo giocare al massimo consapevoli degli errori che abbiamo fatto e quindi quelli non li dobbiamo più fare come già accennato veniamo alla gara di domani al comunale arriva la torres capolista otto vittorie tre pareggi cinque gol subiti una squadra che magari all'inizio poteva sembrare una rivelazione ma che giornata dopo giornata sta diventando sempre una certezza di questo campionato sta dimostrando questo quindi bisogna dare atto e merito a questa squadra che che sta facendo così bene quindi merita tutte le attenzioni del caso perché i numeri dicono che in questo momento è la più forte. Da un punto di vista anche delle rotazioni chiedo come sta la squadra magari in alcuni reparti ci può essere un po di di emergenza anche dettato dal fatto che si giocherà tanto in questo mese di novembre. Io in ogni caso devo pensare a quella che sarà la partita di domani. Abbiamo qualche qualche problema vediamo quello che riusciremo a risolvere da qui a domani e poi farò farò le mie scelte. Sicuramente qualsiasi scelta sarà fatta sarà fatta in funzione della squadra ed è per mettere tutti nelle condizioni di poter dare il massimo. Ultima cosa nelle ultime due partite casaling sono arrivate due vittorie domani la sticella si alza ulteriormente affrontando la prima della classe importante anche la spinta del pubblico di casa per cercare di far sì che questo sia un po quel fortino che lei auspicava qualche settimana fa. Ma giocare in casa deve ripeto essere un motivo di di consapevolezza di non dover far violare casa tua. Chiaramente i nostri tifosi come hanno sempre fatto da che sono arrivato io ci hanno sempre sostenuto anche nei momenti difficili e quindi mi aspetto anche domani un aiuto da parte loro che deve essere da parte nostra invitato a fare il massimo tifo quindi sta a noi motivare la tifoseria a essere sempre più presente a essere sia a livello di numero sia a livello proprio di passione ma fino adesso non è mai mancata.